tutorial 28 nel tutorial 28 ancora ci spostiamo adesso in assembly design in assembly design al nostro prodotto andiamo ad aggiungere prima di tutto il supporto al supporto andremo a nascondere i piani principali selezionandoli e schiacciando nascondi e visualizza e lo andremo a fissare questo è fondamentale da un punto di vista concettuale poi dovremo ripeterla quest'operazione quando passiamo alla realizzazione cinematica del nostro modello ma per adesso lo facciamo per chiarirci proprio le idee per capire quello che stiamo facendo andiamo ad introdurre il secondo elemento come secondo elemento intrudiamo introduciamo la ruota motrice a rinomina vediamo se me la risolvi automaticamente ok sì quindi abbiamo la parte 1 la parte 2 lo facciamo così la parte 1 proprietà la indichiamo come supporto ok applica ok la parte 2 proprietà la indichiamo come ruota motrice ok applica ok e adesso che facciamo della ruota motrice andiamo a nascondere i piani principali e la spostiamo la spostiamo ad esempio lungo questo questa direzione in questo modo hai attivato la rotazione vedete quando è attivata la rotazione me la fa ruotare attorno all'elemento che ho selezionato attiviamo la traslazione selezioniamo ad esempio questo lato e la spostiamo ok quindi andiamo ad applicare i nostri vincoli il primo vincolo è il vincolo di coincidenza tra questo asse e questo asse il secondo vincolo che andiamo ad applicare il vincolo di offset tra questa faccia e questa faccia come valore attribuiamo il valore nullo di modo che le due facce siano complanari in questo modo adesso introduciamo la seconda ruota ruota condotta l'andiamo a rinominare quindi proprietà e scriviamo ruota condotta applica è ok e andiamo a nascondere i piani principali lo facciamo nascondiamo i piani principali soprattutto perché in questo tipo di esercizio non ci servono e potrebbero complicare esclusivamente la rappresentazione grafica di quello che stiamo facendo allora non siccome non ci servono li possiamo nascondere e che facciamo andiamo a spostare la seconda ruota la spostiamo quindi la trasliamo rispetto ad esempio a questo asse in questo modo ok e ancora andiamo ad applicare il primo vincolo che il vincolo di coincidenza tra questo elemento e questo elemento ma aggiorniamo e ancora un vincolo di offset tra questa faccia e questa faccia e come valore attribuiamo sempre il valore nullo facciamo cioè in modo che questi due elementi siano fra di loro coincidenti come vedete non avendo utilizzato delle ruote dentate non avendo seguito delle specifiche le ruote dentate sono disposte veramente in maniera casuale i denti si toccano ma questo sarà diciamo un lavoro che faremo più avanti proprio quando andremo a definire perfettamente delle ruote dentate vedete ho lasciato anche uno spazio tra il diciamo il perno e la parte interna della ruota dentata questo è solo per capire quello che dobbiamo fare se non dovessero essere ingranate come sono venute a me per pura casualità basterà quindi semplicemente andare a movimentare una delle ruote dentate con una rotazione e rispetto ai vincoli ad esempio scegliendo questo questa circonferenza allora io posso spostare la ruota dentata e posizionarla nella maniera diciamo più consona possibile ok quindi da un punto di vista dell'assemblaggio abbiamo assemblato il nostro elemento adesso vorremmo realizzare anche la cinematica di questi elementi per far questo ci spostiamo su digital mockup su kinematics e allora se adesso vado prima di tutto a definire una parte fissa lo rifaccio ancora una volta perché se andiamo a leggere adesso i nostri vincoli la parte fissa è definita effettivamente ma se adesso dovessi passare alla conversione dei vincoli per la cinematica questo comando mi consente automaticamente di convertire i vincoli che ho qui realizzato per la parte cinematica utilizziamolo nuovo meccanismo meccanismo 1 ok creazione automatica delle coppie ok e adesso se andiamo su applicazioni abbiamo il nostro meccanismo che presenta un numero di gradi di libertà pari a 2 e vediamo se giunti abbiamo due giunti di rotazione quindi quello che abbiamo fatto da un punto di vista dell'assemblaggio cioè di fissare questa parte e di andare a individuare con questi comandi con la coincidenza e con l'offset abbiamo realizzato il primo giunto di rotazione e con un'altra coincidenza e con un altro offset abbiamo realizzato il secondo giunto abbiamo però che fare con delle ruote dentate quindi quello che ci serve è nella lista dei noi dovreste trovarvi di fronte a nulla al comando posizionato su giunto di rotazione che è quelli che abbiamo creato a noi ci servono le ruote dentate richiamiamo il comando ruote dentate il nome del giunto ruote dentate 3 va bene quello che ci dà per default è più che sufficiente dobbiamo creare il primo giunto di rotazione per la ruota dentata e per questo asse e un secondo giunto di rotazione per questa ruota dentata per il secondo asse creiamo il primo allora adesso dobbiamo definire le due linee che sono i due assi della ruota e di questo elemento cilindrico se io adesso cerco di individuare l'elemento cilindrico della ruota vedete l'asse della ruota è complicato perché adesso si sovrappone l'asse del supporto del cilindro del supporto che è più lungo e quindi me non nascondi allora per lavorare agevolmente vado a nascondere a visualizzare il supporto seleziono l'asse della ruota rendo nuovamente visibile il supporto e adesso vedete che l'asse del supporto è più lungo dell'asse della ruota seleziono l'asse del supporto quindi ho selezionato le due linee adesso ho bisogno di due piani e come piano sceglierò prima quello della ruota perché ho scelto prima l'asse della ruota questo e come secondo piano l'asse del supporto questo avrei potuto specificare anche questo piano dando un offset ma visto che comunque li abbiamo già resi complanari semplifichiamo notevolmente le cose diamo l'ok e abbiamo creato il primo giunto di rotazione adesso andiamo a creare un altro giunto di rotazione a voi probabilmente avrà scritto giunto 1 avevo già fatto delle prove creiamo il secondo giunto di rotazione quindi dobbiamo fare riferimento adesso alla seconda ruota e come al solito nascondiamo il supporto selezioniamo l'asse della prima della seconda ruota della ruota condotta rendiamo nuovamente visibile il supporto e selezioniamo l'asse del supporto vedete adesso abbiamo bisogno del piano della ruota e del piano del supporto questo ok quindi mi viene chiesto di definire il rapporto le due ruote sono della stessa dimensione quindi ruotano alla stessa velocità e quindi il rapporto è pari ad 1 la direzione della rotazione in questo caso ovviamente vogliamo una rotazione opposta vogliamo che una ruota giri in senso orario l'altra dovrà girare in senso anti orario diamo l'ok è possibile simulare il meccanismo diamo l'ok e passiamo alla simulazione con questo comando possiamo simulare il meccanismo meccanismo 1 ok mi viene chiesto di specificare da dove a dove senza verificare per adesso i limiti del giunto quindi dal valore nullo lo spostiamo fino a 360 gradi quindi facciamo in modo che la prima ruota faccia un giro completo inserisci creiamo un loop e facciamo partire la simulazione allora il problema adesso è sta simulando lo vediamo ma la velocità di rotazione è elevata diminuiamola ancora troppo elevata diminuiamola ancora ancora troppo elevata ancora troppo elevata facciamola la più bassa possibile ed ecco qui il nostro meccanismo li ripeteremo diverse volte con delle introdurremo tutti quanti i tipi di giunti di giunto che possiamo utilizzare comunque questo con le ruote dentate ci ha permesso di prendere in esame uno dei più complessi in realtà quindi già se abbiamo capito il funzionamento di questo tipo di giunto gli altri dovrebbero risultarci più facili ripetete l'esercizio più volte è un consiglio che vi do vedete dove sbagliate riprovate riguardate il video se avete delle domande scrivetene nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e condividete alla prossima